è il 6 di novembre sono le 7 del mattino buongiorno questa è l'edicola ben ritrovati i quotidiani di oggi hanno ancora nella maggior parte dei casi titoli che riguardano la guerra ma in realtà si riferiscono ai colloqui che il segretario di stato americano Blinken ha avuto con il capo dell'ANP Abu Mazen pochi, solo il Corriere della Sera sostanzialmente nel titolo di apertura riporta l'annuncio che è stato fatto dal portavoce delle forze militari israeliane di una Gaza ormai sostanzialmente circondata di una striscia divisa in due ecco vedete ve lo stiamo facendo vedere Gaza pronto all'assalto finale infatti questo è stato l'annuncio che è stato dato ieri sera intorno alle 8 ma gli altri quotidiani che adesso scorriamo rapidamente si concentrano di più diciamo così sulle questioni diplomatiche Blinken tratta con i panestinesi Netanyahu no alla tregua per esempio il titolo scelto dalla stampa che poi sottolinea Abu Mazen però pronto a mediare ancora domani Gaza gli Stati Uniti scommettono su Abu Mazen Blinken ha incontrato il presidente della ANP la sua speranza è che finita la guerra l'organismo si prenda responsabilità di governo nella nella striscia e poi il domani ma come anche altri quotidiani ovviamente evidenzia anche quella quella dichiarazione veramente assurda incredibile di uno dei ministri di Tel Aviv uno dei ministri di Netanyahu che non ha escluso l'uso dell'atomica e però è stato immediatamente sospeso domani parla anche di una strategia confusa di Israele è un articolo molto interessante lo andremo a vedere fra un momento ma intanto vi faccio vedere ancora rapidamente qualche altro titolo per esempio ecco fatto quotidiano il titolo lo fa proprio su questa dichiarazione Israele governo di pazzi quello che vuole l'atomica solo sospeso o ancora Repubblica Abu Mazen dateci Gaza e da insomma per fatto sostanzialmente questo accordo in cui l'anziano lidere dice ci assumeremo le nostre responsabilità e poi anche in evidenza invece l'incontro che c'è stato con uno dei capi di Hamas a Teheran con Raisi presidente iraniano che rappresenta diciamo così tutto un altro fronte ancora eccolo qua Gaza vedete il ritorno di Abu Mazen nella scelta del messaggero insomma questo per dire come questo aspetto viene più sottolineato dopodiché c'è un'altra particolarità che troviamo oggi sui quotidiani almeno sul Corriere della Sera e sulla stampa e cioè il ricordo il Corriere della Sera degli ostaggi eccolo qua un mese dopo le vite sospese perché era per l'appunto il 7 di ottobre oggi siamo al 6 di novembre quindi è sostanzialmente passato un mese ed è questa carrellata vedete di fotografie di alcuni dei 240 ostaggi che sono nelle mani di Hamas alcuni sono veramente bambini piccolissimi di 4 anni 2 anni ci sono intere famiglie che sono state rapite e scrive Greta Privitera che evidentemente ha curato questa doppia pagina la voce che manca che non si può sentire che non esce la voce inascoltata silenziata sovrastata a un mese dall'attacco di Hamas i parenti degli ostaggi con cui parliamo usano tutti la stessa metafora mia figlia a 19 anni stava prestando servizio militare non sentiamo la sua voce da un mese non ci può dire come sta è uno appunto degli esempi delle persone che vengono sentiti l'altro quotidiano che vi dicevo usa fa un uso importante e interessante delle fotografie è la stampa che però mette diciamo così non a confronto ma affianca immagini della devastazione dei lutti israeliani a quelli di Gaza e quindi eccole qua questa pagina è curata da Domenico Quirico e le fotografie sono di Fabio Bucciarelli vi dicevo le rovine di Israele queste sono le macchine incendiate durante il rave e queste sono le rovine di Gaza ma anche lo strazio delle famiglie che si ritrovano a piangere i loro morti i funerali e il fronte e allora partiamo proprio dal fronte c'è sul Corriere della Sera un articolo molto interessante perché raro di un giornalista embedded al seguito dell'esercito israeliano proprio dentro la striscia di Gaza finora come sapete è raro riuscire ad avere notizie dalla striscia anche per la difficoltà di comunicazione questo giornalista si chiama Ancel Pfeffer è del Sunday Times ha avuto quindi la possibilità di pubblicare sul Corriere della Sera e scrive a un certo punto che l'occasione per prendere atto della devastazione c'è stata fornita ieri unendoci embedded alla 401esima brigata corrazzata impegnata nell'aprirsi un barco in città stiamo parlando di Gaza in una guerra in cui i fatti e dettagli vengono contesi con la stessa ostinazione dei metri di territorio l'accesso è rigorosamente controllato e questo racconto è stato sottoposto all'approvazione delle forze armate israeliane quindi in qualche modo comunque il collega ci sta dicendo attenzione questo articolo evidentemente non è completamente libero un po' di controllo su quello che viene detto c'è ma al di là di questo è interessante come dicevo quello che ci viene raccontato i centri abitati del settore nord scrive infatti il giornalista sono quasi tutti rasi al suolo avanzando si rischiano imboscate non si scende mai nei tunnel gli dicono i soldati appena troviamo un'entrata vengono gli artificieri a farla saltare Hamas deve essere eliminato una volta per tutte gli racconta uno dei soldati non voglio che mio figlio che oggi ha quattro anni sia costretto a venire a combattere qui da grande e poi appunto il racconto ma che cosa significa esattamente distruggere Hamas lo sentiamo dire ormai da un mese domani fa un scrive un articolo molto interessante a questo proposito lo affida Yussef Hassan Olgado annientare Hamas non significa nulla la confusa strategia israeliana a Gaza scrive su domani ogni membro di Hamas è un uomo morto c'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra ora è il tempo di guerra Israele è pronto a combattere noi non abbiamo voluto noi questa guerra ma la porteremo a termine fino alla vittoria sono solo alcune delle frasi pronunciate dal premier Netanyahu nelle settimane successive all'attacco terroristico la reazione a questi tradici e sanguinosi eventi ha portato a una rappresaglia di Israele che ha causato oltre 9 mila vittime ma a un certo punto si chiede domani al momento i vertici militari del governo di Israele hanno annunciato che l'obiettivo dell'operazione militare è quella di annientare il gruppo terroristico e proprio per questo sono entrati nella striscia con soldati e carri armati ma cosa significa esattamente e soprattutto può Israele raggiungere il suo obiettivo e allora sentite qua dice non è un esercito regolare quindi non è facile stimare la potenza militare di Hamas da report e analisi di diversi think tank l'ala militare di Hamas è divisa in corpi quindi praticamente come un esercito marina, aviazione, cyber sicurezza e reparti secondo le forze armate israeliane sono circa 30 mila i combattenti di Hamas organizzati in gruppi e battaglioni e una fonte citata dalla Reuters riferisce che il numero è più vicino alle 40 mila unità la brigata più nota è quella di Yitz al-Din al-Kassam creata nel 91 e che negli anni ha maturato importanti capacità di addestramento militare e poi l'altra notizia importante che ci dà è che al di là di questi 30-40 mila miliziani ovviamente bisogna anche sommare le migliaia di persone che sostengono in maniera indiretta Hamas insomma non è facile ipotizzare davvero una sua completa eliminazione al di là del fatto che come dicevamo c'è poi la questione bomba atomica che insomma non viene neanche presa in considerazione ovviamente e allora entra in gioco per l'appunto Abu Mazen dal messaggero lo prendiamo visto che ne fa proprio un titolo dedicato a lui Gaza il ritorno di Abu Mazen il leader appunto della Npli che scrive il messaggero è pronto a prendere il governo scrive Marco Ventura pronti ad assumere la responsabilità di Gaza le parole di Mahmoud Abbas alias Abu Mazen il quasi 88enne presidente dell'autorità nazionale palestinese acerrimo nemico interno di Hamas che governa o governava nella striscia sono la chiusura del cerchio per la missione del segretario di Stato americano Anthony Blinken in Medio Oriente da un lato Blinken si è appellato a Netanyahu a Tel Aviv perché accettasse le pause umanitarie per mandare aiuti alla popolazione civile a Gaza e perché la reazione militare a 7 ottobre fosse contenuta nei limiti stretti del diritto internazionale Netanyahu ha risposto picche e non a caso i due non si sono fatti vedere in pubblico dopo i colloqui ma sicuramente avranno discusso anche del futuro assetto della striscia invece come vedete si sono fatti vedere c'è anche questa foto che mostra la stretta di mano fra Blinken e Mahmoud Abbas cioè Abu Mazen che si dice per l'appunto pronto a guidare la striscia devo andare in pubblicità ma prima di andare in pubblicità vi voglio far vedere al volo così chiudiamo diciamo così questo capitolo ancora sul Corriere della Sera eccolo qua c'è questo piccolo colonnino di Lorenzo Cremonesi ma interessante che ci dice guardate che però anche in Cisgiordania Abbas è debole e ha le mani legate è stato condotto un sondaggio il 53% dei quasi 3 milioni di abitanti della Cisgiordania oggi non si esprime ma anche se lui teme che molti non vogliono palesare simpatie per Hamas però dice probabilmente insomma questo è in realtà la tendenza al momento in Cisgiordania diversa Gaza e dunque bisogna vedere quanto davvero Abu Mazen possa pensare di prendere il potere ci dobbiamo fermare perché sono le 7.12 pubblicità e poi ci ritroviamo sono le 7.17 riprendiamo la nostra edicola c'è un articolo che vi voglio segnalare lo trovate a pagina 3 del Corriere della Sera e riguarda per l'appunto l'atomica di Israele è detto della dichiarazione incredibile stigmatizzata per esempio dal fatto che parla proprio di una follia ma la cosa interessante è che come fa a notare questo articolo del Corriere della Sera in realtà questa dichiarazione svela diciamo così un aspetto mai ufficialmente dichiarato da Israele che non ha mai ammesso di avere davvero le armi atomiche tant'è che infatti ne scrive Dario Frattini e dice usare l'atomica al ministro estremista è la frase shock che rilancia il mistero nucleare israeliano e racconta di come ci siano appunto questi insediamenti uno in particolare nel deserto del Negev dove ufficialmente ci si limita a fare studi diciamo così per usi civili Israele appunto non lo ha mai ammesso ma questa uscita evidentemente qualche cosa significa il che mi fa pensare diciamo così a un po' i complotti e allora ecco qua guardate invece il titolo che sceglie di fare libero che ritorna ancora una volta lo fa da quando è iniziato diciamo così questa vicenda sulla questione diciamo così dello scherzo telefonico a Giorgia Miloni accendi il pc Putin ti spia scrive Libero nel titolo di apertura hacker russi contro l'Italia e ci dà una notizia che in realtà nessun altro quotidiano questa mattina dà anche ieri i pirati di Mosca hanno colpito i siti di istituzioni banche e media è successo anche ieri scrive infatti Libero a partire dalle 18 i siti di alcune amministrazioni pubbliche centrali di certe banche dell'agenzia ANSA e di altri soggetti sono stati colpiti da un attacco informatico condotto dal collettivo di hacker filorussi non ne in 57 simili ostilità sono all'ordine del giorno dal febbraio del 2022 quando la Russia ha invaso l'Ucraina così almeno scrive Fausto Carioti che elenca in questo articolo appunto quelli che definisce i cyber assalti della Russia pensate nel 2023 ben 175 attacchi all'Italia e riportando alcune frasi del sottosegretario Mantovano dice Meloni è un target di Putin insomma non ci sta Libero a accettare l'idea che appunto si sia trattato di un semplice scherzo il che è molto probabile e quindi giustamente insiste su questo aspetto l'altra cosa che vi volevo invece far vedere riguarda un altro conflitto quello diciamo così di cui ci siamo occupati fino a poco tempo fa ovvero il conflitto di Ucraina dove in questo caso è la stampa l'unica a farlo si coglie forse un piccolo spiraglio di possibilità di trattative ne scrive Giovanni Pigni che si trova a San Pietroburgo Putin mano tesa agli USA sull'Ucraina è ora di parlarci è una dichiarazione che ha fatto il portavoce del ministero di Putin Peskov e quindi eccolo qua il dialogo è necessario per preservare la stabilità globale però nel frattempo la guerra va avanti tant'è che ci dice la stampa Kiev colpisce una nave russa in Crimea e Zelensky dice non c'è nessuno in realtà ahimè purtroppo c'è ma intanto purtroppo per gli ucraini ovviamente la verità invece ritorna sul tema della necessità di farla finire questa guerra per questioni economiche questo è quello che importa la verità è arrivata l'ora di far finire la guerra fra Russia e Ucraina questo è il suo titolo di apertura e la giustificazione è che i costi delle battaglie pesano appunto sulle spalle dell'Europa anche la verità sottolinea come il Cremlino appunto chieda di riavviare il dialogo con Washington tutti stanchi delle armi è il momento di tirare una linea anche se si poteva fare prima sì sicuramente imponendo forse una pace che non è pace ma è qualche cos'altro cambiamo completamente argomento parliamo dell'altro tema che troviamo sui quotidiani ovvero la riforma costituzionale riparto di nuovo dal Corriere della Sera il quale Corriere della Sera ha a pagina 10 una doppia pagina 10 e pagina 11 eccolo qua vedete una doppia pagina intanto ci spiega parte dalla conta dei voti del cosiddetto premierato e racconta che ieri la ministra Casellati si è detta diciamo così aperta a possibili modifiche ma e poi ci mostra diciamo così metta a confronto scusate i vari sistemi istituzionali che ci sono per esempio in Germania Francia Spagna con la monarchia parlamentare ovviamente nel Regno Unito il cancellerato federale in Germania il semipresidenzialismo in Francia la monarchia parlamentare in Spagna ma quello che mi interessava farvi notare è l'intervista questa doppia intervista che trovate da una parte Maria Teresa Meli intervista a Carlo Calenda che dice la prima cosa che mi salta agli occhi è il fatto che teoricamente una coalizione che prende il 30% va al governo con un maxipremio di maggioranza perché questo accadrebbe per capirci nella scorsa legislatura avremmo avuto Luigi Di Maio al governo per 5 anni e l'Italia non sarebbe sopravvissuta al di là di tutte le obiezioni e sono molte che possono essere sollevate su questa riforma il problema di fondo però è un altro quale? dice in Italia ci sono tre cose che non funzionano il ruolo del Parlamento cioè il bicameralismo il federalismo e la pubblica amministrazione questa riforma dice sostanzialmente non tocca nessuno di questi tre aspetti e propone il cancellierato alla tedesca Calenda perché dice se non altro è un modello consolidato mi risponde diciamo così indirettamente nell'intervista di Marco Cremonesi il Calderoli Roberto Calderoli ministro per gli affari regionali che dice non raggiungeremo sicuramente i due terzi in aula quindi bisognerà andare a fare il referendum però è confida nel fatto che il popolo darà il consenso e dice tutti si concentrano sulla figura del premier ma in realtà secondo lui il punto è un governo di legislatura che per cinque anni si confronta con il resto del mondo quindi rispondendo appunto indirettamente a quei cinque anni in cui avrebbe governato eventualmente Di Maio ma se gli elettori fanno una scelta è poi anche evidentemente giusto rispettarla la questione del cancellierato alla tedesca è ripresa anche nell'editoriale di Angelo Panebianco che dice si chiede perché sostanzialmente Meloni abbia scelto questa formula la formula che appunto è stata presentata che dice è pasticciata ma soprattutto dice non può assolutamente funzionare e si chiede come mai per l'appunto non ha scelto il cancellierato alla tedesca che avrebbe sostanzialmente non solo messo insomma era un sistema consolidato ma avrebbe sicuramente anche portato i voti di una parte delle opposizioni e la sua conclusione infatti l'abbiamo visto con Calenda per esempio e la sua conclusione è che era l'unico la formula presentata l'unico punto di equilibrio fra le proprie forze di maggioranza e però dice ancora pane bianco il testo presentato sembra più un ballon de sé che una proposta compiuta quindi vedremo che cosa ne sarà vi segnalo anche su Repubblica a questo proposito intervista del capogruppo del partito democratico che dice però che se la riforma dovesse essere respinta eccola qua Meloni dovrebbe dimettersi la Premier se perde deve lasciare uniti in aula per il no quindi sarà una lunga traversata vi faccio vedere anche eccola qua la prima pagina di quotidiano nazionale quindi nazione resto del carlino e giorno invece per quello che riguarda il dramma dell'alluvione in Toscana noi ci siamo sono i nuovi angeli del fango così li definisce e però quello che è importante anche che sale purtroppo a mezzo miliardo la conta dei danni dell'alluvione in Toscana si parla dell'impegno dei volontari con un'intervista al ministro Musumeci che dice bisogna prevenire meglio e a proposito di questi c'è un'intervista che troviamo sulla stampa che potrà forse provocare diciamo così qualche polemica è una ne parla Fabrizio Curcio il capo della protezione civile che dice insomma che sono i cittadini che non seguono le regole e così gli allarmi sono inutili insomma bisogna educare gli abitanti a non mettersi in pericolo e dice sì alle evacuazioni preventive ovviamente però dice il sistema di allerta si può migliorare anche con le regioni un ultimo tema di quelli importanti sui quotidiani l'acquisizione di KKIR di team riprendo in mano il messaggero che ne fa un titolo grande evidenza sulla sua prima pagina la rete di team al fondo KKIR via libera del consiglio d'amministrazione piano da 22 miliardi esclusa però l'assemblea e quindi Vivandi farà ricorso e allora è molto polemico il giornale su questo ha ragione se mi permettete perché dice la rete team agli americani e ora tocca al tesoro ne scrive Osvaldo De Paolini che racconta una catena infinita di errori è la sintesi di 25 anni di Telecom Italia oggi nota come team da ieri è avviata a cedere la rete che ne ha costituito la spina dorsale dalla fondazione una catena di eventi dentro i quali sono condensati tutti i vizi del capitalismo privato italiano esaltati dalla totale inanità o peggio dalla complicità di alcuni governi che ne hanno consentito che un campione italiano sesto gruppo delle telecomunicazioni a livello mondiale primo in Europa per innovazione tecnologica alla fine degli anni 90 venisse spolpato e dilaniato dagli azionisti è un jacuzzi pesante ma dicevo molto motivato dopodiché altra cosa interessante che vi voglio far vedere riguarda eccola qua sempre quest'altro titolo licenziamenti paghe ridicole scandalo CGL viene accusata dal giornale la CGL di aver firmato anche degli accordi a meno di 9 euro ma voglio concludere con due notizie abbastanza curiose una che riprendo ancora dal messaggero che diciamo così ho pensato che avrebbe fatto impazzire tutti i complottisti che pensano che abbiamo un chip nel corpo beh ce lo avremo probabilmente davvero pillole intelligenti con batterie tutte da mangiare è una scoperta di cui si sta parlando è un'innovazione che arriva presto così come arriverà presto Corrado Augas alla 7 ne parla con dovizia di particolari il Corriere della Sera che ci racconta per l'appunto di questa novità a proposito di novità buongiorno Manuela so che è stata un'altra notte impegnativa quindi raccontaci tutto buongiorno Flavia grazie buongiorno ai nostri telespettatori sì vi daremo tutti gli aggiornamenti su quello che sta accadendo in Medio Oriente con Gaza City circondata da Israele pronta a sferrare l'attacco nelle strade mentre il segretario di Stato americano Blinker è in Turchia e poi si sposterà in Giordania dunque continua il faticoso lavoro della diplomazia parleremo naturalmente anche della riforma per l'elezione diretta del Premier con la maggioranza che apre ad un confronto con l'opposizione molto molto critica di una Giorgia Meloni che cerca un ampio consenso poi naturalmente andremo in Toscana per fare il punto della situazione sul maltempo sull'impegno dei volontari per aiutare i cittadini a eliminare il fango dalle strade Gianni che è stato Gianni che è stato nominato commissario straordinario per le emergenze e poi naturalmente tutte le notizie sullo sport con il campionato e la Formula 1 ma prima Paolo Sottocorona con le notizie sul meteo buongiorno Paolo Grazie Emanuela buongiorno situazione decisamente più tranquilla questa ovviamente aiuta per quello che va fatto nelle zone più colpite c'è qualche nuvola in giro ma al momento di piogge non ce ne sono già il miglioramento poi in parte si era visto anche ieri vediamo allora la previsione per la giornata di oggi sono previste ancora delle piogge sul nord-est ancora sull'alta sull'alta Toscana sul medio e basso versante tirrenico ma sono piogge molto deboli quindi sicuramente non è che non sono piogge che possono portare altri danni possono magari dare fastidio o diciamo nelle operazioni di soccorso però è una situazione relativamente tranquilla domani c'è qualcosa in più che riguarda però più le regioni centrali e centro-meridionali anche qualche fenomeno intenso è una cosa diciamo piuttosto breve però potrebbe dare qualche qualche problema ancora nord-est e anche le zone della Toscana ma con piogge molto deboli e poi ci sono anche molte zone al nord in cui come vedete non piove arriviamo alla giornata di mercoledì in cui questo questo maltempo si sposta più a sud attenuandosi quindi al sud piogge da deboli a moderate sulle altre regioni centrali e settentrionali o delle schiarite che ci sono anche al nord o ancora delle piogge ma sempre molto molto deboli le temperature di questa mattina col cielo in parte sereno le minime scendono lo sapete quindi si sente aria decisamente più fresca non solo al nord ma anche su alcune zone del centro e del sud stato dei mari in via di diciamo attenuazione come moto ondoso ma ancora diciamo da poco mossi a mossi o molto mosso il tirreno ci sono il mar Ligure ancora con quella zona in rosso che è un mare agitato da sud ovest ma anche questo in giornata si calmerà se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Garulli a più tardi